E' stato firmato il DBCM, il decreto da parte del Consiglio dei Ministri, è stato sottoscritto dopo il parere delle due commissioni, come dire, Camera e Senato, e le due commissioni, sia la Camera che il Senato, hanno dato un parere favorevole, ma devo dire anche con alcuni rilievi, anche alcuni rilievi di una certa rilevanza. Sono state indicate delle risorse, 800 milioni, in tutta Italia. Le regioni tutte abbiamo ritenuto, in base a una stima, che gli 800 milioni non sarebbero stati, e non sono, come dire, sufficienti, abbiamo delle stime di molto superiori rispetto ai 800 milioni. Siccome ci sono delle opinioni diverse, lo Stato ha un'opinione, per verità la sanità, l'economia ha ancora un'altra opinione, noi come regioni ne abbiamo più simile a quello dell'economia. Allora si è deciso, anziché continuare, come è avvenuto negli ultimi mesi, attraverso un lungo braccio di ferro, 800 milioni su poco, ne occorre un milione del doppio, ne occorre un milione... Partiamo, e abbiamo dato l'assenso, partiamo, però a condizione, e questo è stato in qualche modo indicato nel provvedimento, contemporaneamente però al fatto che la commissione d'idea, dove noi siamo presenti, prima c'era Moirano per tutte le regioni, adesso ci sarà Botti, Renato Botti, nella commissione si fa anche una verifica dei costi, ed essendo nella commissionerea presenti anche il Ministero dell'Economia e della Salute, si vedrà concretamente quali sono i maggiori ordini, se sono sufficienti e qualora fossero insufficienti, ed essendo stati elementi di verifica, evidentemente si procederà, credo tutti assieme, in ogni caso come regioni, a chiedere gli aumenti di risorse, ma in pare che su questo c'è come dire un'intesa. Quindi, analizzando la sua relazione, Assessore, io non so se lei è più ottimista o più arrendevole, e uso termini volutamente non offensivi, appunto, per favorire la discussione di dibattito. Io, appunto, sentendo la sua relazione, mi pongo addirittura una domanda, mi chiedo se lei è ancora coordinatore degli Assessori a Sanità regionali, mi può confermare questo dato, lei è ancora assessore e coordinatore degli Assessori a Sanità regionali, non è cambiato nulla, no? Nell'inizio del nuovo anno. Ma lei ha citato più volte le relazioni della Camera e del Senato. Io non ho sentito portare delle posizioni delle regioni, c'è un documento delle regioni. Le regioni, quali critiche hanno fatto, quali parti hanno approvato, quali parti no? Cioè, io non penso che tutto il documento, visto che anche lei ha detto che ci sono stati diversi rilievi della Camera e del Senato, sia condivisibile. Quindi, nel momento in cui lei ha citato delle possibilità, appunto, di criticità emesse nel dibattito parlamentare a cui lei ha partecipato, ma come esterno, ovviamente non come interno, con un'audizione, certo, io mi aspettavo, noi ci aspettavamo che lei ponesse anche i rilievi fatti dalle regioni. Quindi, io capisco che a volte è difficile andare contro un governo dello stesso colore politico. Però, noi, penso, come regione Piemonte, penso, l'insieme delle regioni che l'hanno eletto, comunque, immagino, a larga maggioranza come coordinatore appunto delle sanità regionali, vogliono anche da lei comunque una posizione per nome e per conto delle regioni. Perché dire, noi adesso, insomma, abbiamo appreso che ci potrebbero dare 800 milioni di euro, per tutta una serie di nuovi livelli senza l'assistenza. Sappiamo però che, insomma, c'è stata un po' di polemica a livello parlamentare, per cui sembra che le 800 milioni di euro non siano sufficienti, si parla di un miliardo e sei addirittura, come prima analisi della Camera e del Senato. La posizione delle regioni, quindi non le chiedo la sua posizione, guardi, sono anche gentile e che non la metto troppo in difficoltà, non le chiedo la sua posizione, le chiedo la posizione delle regioni, che lei rappresenta in qualità di coordinatore dell'assessore della sanità regionale. Gli 800 milioni di euro sono sufficienti o no per erogare i nuovi livelli senza l'assistenza? Perché è una cosa molto semplice, se noi accettiamo e abbiamo accettato oramai questi nuovi livelli senza l'assistenza, tutti questi nuovi, che noi condividiamo perché sono 110 nuove malattie rare, una serie di malattie croniche, una serie sulla procreazione assistita, una parte su cui abbiamo più dubbi sui vaccini, di cui parlerò dopo, la protesica, il nuovo nomencatore, eccetera, va bene. Ma se le risorse non sono sufficienti neanche a coprire il totale di quei nuovi livelli, noi avevamo già difficoltà con il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, perennemente tagliato rispetto a quanto previsto dalla Lorenzin, dalla Ministra, mi spiega come facciamo a essere credibili verso i cittadini.